Benvenuti a Crossroads. In questo episodio parliamo di come gli agricoltori potrebbero essere accusati come dei criminali di guerra in base a una nuova proposta del World Economic Forum. Questi parlano di ecocidio. Inoltre in questo momento c'è una spinta globalista per dare ad alberi, animali, fiumi, montagne eccetera gli stessi diritti degli esseri umani e questo potrebbe perfino arrivare all'intelligenza artificiale. C'è una proposta proprio in base alla quale gli agricoltori potrebbero essere accusati testualmente di ecocidio come fosse un genocidio di esseri umani ma contro l'ambiente. Ecocidio. E potrebbero essere perseguiti penalmente per il solo fatto di coltivare. Questa è una delle posizioni più controverse espressa da un partecipante al recente World Economic Forum 2024 di Davos ma si ricollega a un dibattito già in corso in tutto il mondo sul cosiddetto status di essere umano. Lo status di essere umano c'è già un movimento crescente che chiede di estendere i diritti umani posti a tutela della nostra vita, della nostra libertà e del perseguimento della felicità alle piante, agli animali, ai fiumi, alle montagne, compresi i robot e l'intelligenza artificiale. Ovviamente questo sta sollevando un dibattito sul significato del valore della vita umana per non parlare dei nostri bisogni più essenziali. Potresti essere accusato di genocidio per il solo fatto che mangi qualcosa e infatti questo si lega al futuro del cibo bioingegnerizzato che ovviamente a sua volta è nel quadro dell'acquisizione dei terreni agricoli americani. Ma c'è una questione importante. Se ogni cosa è equiparata a una vita umana allora qual è il valore di una vita umana? Leggiamo su Breitbart. La Corte Penale internazionale dovrebbe aggiungere l'ecocidio al suo archivio accanto al genocidio, ai crimini contro l'umanità e ai crimini di guerra per criminalizzare gli effetti collaterali dell'agricoltura, della pesca e della produzione di energia, come ha sostenuto un attivista verde durante l'incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. L'alleata di Greta Thunberg, la presidente di Stop Ecoside International, Yoyo Meta, ha chiesto martedì, nel corso di un incontro del WEF di Davos intitolato Where Nature Meets Conflict, di istituire una nuova categoria penale internazionale di testualmente ecocidio per prevenire i danni di massa e la distruzione della natura. E questa donna, Meta, che ha cofondato Stop Ecoside nel 2017 insieme alla defunta attivista legale verde Paul Higgins, ha detto questo all'incontro globalista del World Economic Forum. La nostra organizzazione e altri collaboratori miriamo a far sì che questo venga riconosciuto legalmente come un crimine grave, perché uno dei problemi che pervade questa discussione è che abbiamo l'abitudine culturalmente radicata di non prendere sul serio i danni alla natura, come invece facciamo per i danni alle persone e alle proprietà. So cosa potreste pensare, ma sì, sono solo quei pazzi del World Economic Forum e questo è solo un loro incontro. Non significa necessariamente che lo faranno davvero. Come potrebbero mai cercare di criminalizzare l'atto di tagliare un albero o di estirpare una pianta o magari di coltivare del mais o dei pomodori o qualcosa del genere? Beh, sembra certamente un'idea azzardata, ma in realtà esistono già dei programmi in merito. Anzi, sono stati adottati proprio in questi giorni nelle leggi di alcuni paesi del mondo. Ci sono già delle leggi. Il dibattito su questo tema è quello dello status di essere umano. Questo è uno dei termini con cui lo chiamano. Sembra una follia, ma è stato proposto e preso sul serio davvero di concedere i diritti umani alle piante, agli animali e persino all'intelligenza artificiale. Se spegnete il vostro piccolo inquietante robot, è, forse l'avete ammazzato e siete colpevoli. Magari non lo chiameranno ecocidio, ma vi accuseranno dell'omicidio di un'intelligenza artificiale. In base al sistema che stanno adottando ora, uccidere una pianta o un animale sarebbe simile a uccidere un essere umano. Con questo sistema che vogliono imporci, persino all'intelligenza artificiale potrebbero essere garantite tutele legali. Anzi, in alcuni casi lo si sta già facendo utilizzando alcuni cavilli legali. Questo è il Guardian, che parla di alcuni di questi programmi esistenti e della spinta ad estenderli. La notizia è dell'ottobre 2022. Garantire diritti e tutele legali a entità non umane come animali, alberi e fiumi è essenziale se i paesi vogliono affrontare la crisi climatica e la perdita di biodiversità, dicono gli esperti. Gli autori di un rapporto intitolato Law in the Emerging Bio Age affermano che i quadri giuridici hanno un ruolo chiave nel governare l'interazione umana con l'ambiente e le biotecnologie. L'Equador e la Bolivia hanno già sancito dei diritti per il mondo naturale, mentre è in corso una campagna per rendere l'ecocidio un reato perseguibile presso la Corte Penale Internazionale. Ora, per farla breve, vi ho appena mostrato cos'è successo al World Economic Forum. La gente rideva, oh, non lo faranno mai, non renderanno mai l'ecocidio un crimine perseguibile dalla Corte Penale Internazionale insieme al genocidio e alla strage di civili. E invece lo stanno facendo proprio ora. Ripeto, in Ecuador e in Bolivia hanno già introdotto questi diritti a tutela del mondo naturale, tra virgolette. E il rapporto dell'Ordine Professionale degli Avvocati di Inghilterra e Galles sta esplorando come il rapporto tra gli esseri umani e la madre terra potrebbe essere ricalibrato in futuro. La dottoressa Wendy Schultz, futurista e coautrice del rapporto, ha detto questo. C'è una crescente consapevolezza che bisogna fare qualcosa di molto diverso se vogliamo che i nostri figli abbiano un pianeta su cui vivere, che sia in qualche modo piacevole, molto meno sopravvivibile. Quindi questa è una tendenza in espansione. Sta avvenendo velocemente come vorremmo? Forse no. Ed è per questo che è importante diffondere la notizia. Capito? Non si tratta di una follia del tipo morte alle mucche scorreggione. O meglio, c'è anche quello. Ricordate ad esempio quando è stato proposto il Green New Deal, la Ocasio Cortez aveva detto, noi dobbiamo fermare le scorreggie delle mucche. Ed era già scritto nel rapporto, nella prima bozza, dobbiamo abbattere e ricostruire tutti gli edifici degli Stati Uniti. Dobbiamo fare tutte queste cose per salvarci dal potenziale genocida di un grande disastro provocato dalle nostre cattive abitudini di vita, dai gas serra, dalla guida di automobili, dal semplice fatto di vivere una vita normale e di mangiare il cibo che abbiamo nel piatto. Perché tutto quel cibo e tutti quegli agricoltori generano gas serra. Hanno creato un nemico che è dappertutto nel mondo. Il comunismo ha sempre fatto così. La colpa è sempre di un nemico esterno. Sono i kulaki, sono i contadini ricchi, sono gli intellettuali, sono i proprietari terrieri. E Hitler diceva che erano gli ebrei. Hanno sempre usato un nemico su cui concentrare l'intera popolazione per poi servirsi di questa propaganda per riformare, rifare e ristrutturare l'intera società e fare la loro rivoluzione, per giustificare il loro appropriarsi dei mezzi di produzione della gente comune e metterli sotto una nuova struttura sociale. E non lo fanno per perseguitarti o per fare un genocidio. No, loro lo fanno per proteggerti dal disastro. La gente, a detta loro, vuole farti del male. Questa è sempre stata la loro propaganda e ora tornano alla carica. E c'entra anche l'intelligenza artificiale. Perché mai? Perché quando loro considerano qualcosa in pericolo, giustificano se stessi nell'arrogarsi il potere legale di difendere quella cosa. Se loro dicono che gli agricoltori sono il problema, che sono colpevoli di ecocidio, cosa significa? Significa che ora possono rilevare tutti i terreni agricoli, che possono creare nuove politiche per l'agricoltura, che possono obbligarvi a disfarvi del vostro bestiame. Possono obbligarvi a non usare più i fertilizzanti. È possibile che, come è stato proposto in alcuni paesi, ad esempio in Nuova Zelanda, dobbiate mettere dei contatori di rutti sulle vostre mucche. che vi tasseranno in base ai gas di metano emessi dalle vostre mucche. Stanno già proponendo di farlo. E potrebbe anche significare imporre cose come, ad esempio, le cosiddette pratiche alimentari sostenibili, insetti, latte di vermi, latte di scarafaggi. Tra l'altro, per fare il latte di vermi, li schiacciano letteralmente e ne fanno un burro. E naturalmente questa è una delle proposte per il Nuovo Mondo, liberato dagli abusi e dall'oscurità del passato. Vediamo cosa stanno facendo sul fronte dell'intelligenza artificiale. Nel 2018 la PBS scriveva Gli esseri umani non sono le uniche persone nella società. Fatevene una ragione. Gli esseri umani non sono le uniche persone nella società. Quindi, cos'è una persona? Per loro è un processo già in atto, almeno secondo la legge. Negli Stati Uniti alle società sono stati riconosciuti i diritti di libertà di parola e di religione. Com'è possibile che a una società vengano concessi i diritti umani? Anche alcune caratteristiche naturali hanno diritti simili a quelli di una persona. Per certi versi, questo è già in vigore, ma entrambi hanno richiesto modifiche al sistema giuridico. Una nuova argomentazione ha posto le basi affinché anche i sistemi di intelligenza artificiale vengano riconosciuti come persone, senza bisogno di leggi, sentenze o altre revisioni delle norme esistenti. In altre parole, certi cavilli legali permettono di attuare già queste misure di protezione. Proseguiamo. Il giurista Sean Bayer ha dimostrato che chiunque può conferire personalità giuridica a un sistema informatico, mettendolo sotto il controllo di una società a responsabilità limitata, una LLC negli Stati Uniti. Se questa manovra venisse confermata dai tribunali, i sistemi di intelligenza artificiale sarebbero in grado di possedere proprietà, fare causa, assumere avvocati e godere della libertà di parola e di altre protezioni legali. A mio avviso, secondo l'autore, i diritti e la dignità umana verrebbero lesi. Ora, qui si parla di ecocidio, genocidio e di uccidere le piante. Forse un cacciatore verrebbe definito un serial killer, così come un pescatore. Forse un agricoltore verrebbe inquadrato come Hitler, perché uccide un gran numero di piante quando fa il raccolto. Se saranno in grado di estendere le leggi che valgono per le società a responsabilità limitata, potranno estendere le tutele legali, la libertà di parola, la libertà di rappresentanza legale, la possibilità di fare causa a queste entità. Ma una volta creata una LLC, bisogna avere un consiglio di amministrazione e altri individui al suo interno, il che significa che ci saranno altre entità umane, esseri umani veri e propri, che rappresentano le tutele di tutte queste cose a cui decidono di concedere questi diritti. Cioè, un carico di mais non può certo fare causa all'agricoltore, ma gli individui, i folli ecoterroristi, o come volete chiamarli, che decidono di formare la LLC insieme a quello stock di mais, possono fare causa. E naturalmente possono anche sporgere denuncia penale se la vita di questa entità viene danneggiata. E pensate che può succedere se una di queste aziende decide di concedere lo status di persona all'intelligenza artificiale. La PBS fa notare che conferire all'IA, l'intelligenza artificiale, diritti simili a quelli degli esseri umani, implica una manovra tecnica di tipo legale, vale a dire attraverso uno strano sistema giuridico. Si comincia con la creazione di due società a responsabilità limitata e poi si cede il controllo di ogni società a un sistema autonomo o artificialmente intelligente. In altre parole, l'intelligenza artificiale non farà tutto da sola. Le scorte di mais non possono fare nulla da sole. Il pesce o il cervo non andranno a creare una SRL, giusto? Ma un folle ecomaniaco potrebbe creare due SRL e poi dire, cedo il controllo di questa SRL a questo cervo che abbiamo trovato nella foresta e che abbiamo catturato e al quale abbiamo messo una piccola etichetta sull'orecchio per poterlo identificare. E questo cervo, questo animale selvatico, è ora dotato dei diritti conferitigli da una SRL. E naturalmente potrebbero farlo anche per un computer, per un'entità non vivente, qualcosa che non vive, respira o mangia, come un'intelligenza artificiale. Ora, immaginate di essere in giro e di trovarvi di fronte a un tizio molto inquietante che ha una grande bambola gonfiabile robotica e di inciampare accidentalmente e distruggergliela. Lui potrebbe dire, hai ucciso un essere umano, sei colpevole di omicidio colposo perché ho dato i diritti umani a questa mia bambola gonfiabile. E voi potreste essere processati per l'omicidio di questa bambola che quest'uomo ha acquistato e a cui ha dato i diritti creando due società a responsabilità limitata e rinviando poi i diritti di queste SRL alla sua bambola gonfiabile. Pensate a quale futuro stiamo andando incontro. Quindi praticamente aggiungono ogni società come membro all'altra LLC e così via. Perché ripeto, basta registrare due società, rinviano i diritti a un individuo o un non individuo, un animale, una pianta o un'intelligenza artificiale. Poi la persona aggiunge ogni società come membro dell'altra SRL. Basta una piccola manovra legale. E qui sottolineano che nell'ultima fase la persona si ritira da entrambe le SRL e così facendo ogni SRL diventa un'entità aziendale con personalità giuridica governata solo dall'intelligenza artificiale dell'altra. E naturalmente le strutture aziendali possono avere diversi livelli di proprietà. Si possono fare un sacco di cose. Ora, ci sono altre questioni in tutto questo. Alcuni ambientalisti vogliono lo status di essere umano, per i fiumi, per le foreste. Alcune di queste cose sono caratteristiche geologiche, forse un tumulo o una montagna o qualcos'altro. Ci sono persino proposte per concedere questo status a intere entità. Per esempio, non un singolo albero, ma come ho detto, all'intera foresta. E se si comprende il micelio, che può creare un'entità interconnessa, sarebbe praticamente impossibile fare alcunché nell'intera massa terrestre. In alcune aree dove ci sono le sequoie, i miceli sono interconnessi attraverso le loro radici, venendo a creare una gigantesca entità vivente intoccabile. Le sono stati concessi i diritti di un essere umano. C'è chi vuole lo status di essere umano per gli animali, perché sono esseri viventi. E quanto all'intelligenza artificiale, i film di fantascienza già in circolazione, affrontano questo tema. Cosa ci rende umani? In base a cosa gli esseri umani hanno dei diritti specifici? Forse perché siamo esseri viventi? Ma anche gli animali lo sono, come anche le piante. Che differenza c'è tra un animale e una pianta, se siamo tutti esseri viventi? Una risposta può essere perché gli esseri umani sono intelligenti. Tuttavia anche un computer può dimostrare un livello di intelligenza simile a quello di un essere umano. Insomma, stiamo giocando con i concetti alla base della vita umana e con il valore che riteniamo una vita umana abbia. Tutto questo fa parte di un grande dibattito che c'è nella società da molto tempo. Ricordo un vecchio famoso caso giudiziario, Leopold e Loeb. Lasciate che ve lo racconti. Fu uno dei primi casi di omicidio scolastico. Leopold e Loeb erano due giovani molto intelligenti, estremamente intelligenti, i migliori della scuola, e un giorno decisero di commettere il crimine perfetto. Questi due giovani rapirono, uccisero, violentarono il cadavere di uno dei cugini più giovani di uno di loro, ma commisero un grosso errore. Uno di loro fece cadere a terra i suoi occhiali, che avevano una prescrizione molto rara, e gli occhiali furono usati per risalire all'individuo. Entrambi furono processati. Durante il processo ci fu un grande dibattito in America. Come è potuto accadere? Questi due ragazzi, estremamente intelligenti, molto giovani e con un futuro probabilmente brillante, provenienti da famiglie benestanti, non avevano alcun motivo per commettere un crimine del genere. Perché l'avevano fatto? L'argomentazione sollevata in tribunale e a livello sociale negli Stati Uniti all'epoca era molto interessante. Si diceva che le scuole insegnano ai bambini che non c'è Dio e che non c'è un'anima. E se non c'è Dio e non c'è un'anima, allora perché preoccuparsi? Se non c'è un al di là e nessuna conseguenza per il male, allora che importanza ha? Se puoi farla franca con un crimine, perché non commetterlo? E sollevò la questione di cosa siano il bene e il male se ai bambini viene insegnato che non esistono il bene e il male. E questo si ricollega alla questione che stiamo affrontando. Qual è la differenza tra un umano e un animale? E tra un'intelligenza artificiale è un essere umano. Un computer può fare i calcoli più velocemente di noi, può trovare documenti, carte legali e libri più velocemente di noi, può produrre arte e film e ogni genere di cose. Quindi in cosa è diverso da noi? In nulla, a meno che non si creda nell'esistenza dell'anima umana. Questa è la differenza fondamentale. Siamo arrivati a questo punto come società perché abbiamo sminuito il valore della vita umana, abbiamo degradato il valore della vita umana e quando le persone non credono più che la vita umana abbia dei diritti conferiti da Dio, che poi è la base della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, è la base dei concetti di diritti umani e dell'intero ordine mondiale libertario sotto cui viviamo. L'intero sistema, in base a cui crediamo che il ruolo del governo sia quello di custode dei diritti datici da Dio e non di fare da servi a qualche dispotico tiranno. Insomma, se sminuiamo questo, allora l'intero sistema salta. E abbiamo un sacco di cose in ballo in questo momento, come la politica identitaria. I bambini ora possono identificarsi come cani e gatti. Un uomo adulto può dire di identificarsi in un cervo, di essere un cervo selvatico e può correre per la foresta vestito come un cervo e tu devi chiamarlo cervo o potresti essere incriminato. Ci sono persone che si identificano letteralmente come cavalli. Sentite, voi fate un po' come vi pare, ma lasciatemi fuori. Non costringetemi a chiamarvi cavallo, gatto o cane, per favore. Ma queste hanno implicazioni più ampie. Se le identità che queste persone si sono autoconferite sono riconosciute legalmente valide, noi dobbiamo dire per forza, va bene, allora sei un gatto, sei un albero. Io non ci credo, ma non voglio essere sbattuto in prigione. Allora sorge anche la domanda, se una persona diventa un gatto, se un essere umano diventa un cane, se una persona diventa un albero, significa che gli individui, a loro volta, hanno rinunciato ai loro diritti umani? Perché come sappiamo, un albero, un gatto, un cane, un cervo o un chicco di mais, queste cose non hanno diritti umani. Quindi, se legalmente dobbiamo riconoscere queste persone come ciò che affermano di essere, come si identificano, questo le limita ai diritti di un albero, di un gatto o di un cane o di un cervo? E si possono cacciare? Si possono prendere come animali domestici? Si possono abbattere? Queste sono le questioni legali con cui inizieremo a confrontarci se questa follia sociale che sta travolgendo il mondo in questo momento rimarrà tra noi. La domanda di fondo è come possiamo vivere come esseri umani se non possiamo mangiare piante o animali o usare risorse naturali per la nostra vita quotidiana? Cosa significa per noi se iniziamo a conferire diritti, ad esempio, al gas naturale? Questo deposito di gas ha ottenuto i diritti di un essere umano grazie a una splendida SRL. Abbiamo registrato una società per cui questo deposito di gas naturale è ora protetto dai diritti umani inalienabili e non può essere toccato. Non potete danneggiarlo, se no questo deposito di gas vi denuncia tramite gli avvocati che lo rappresentano, che poi sono dei pazzi furiosi. Che cosa succede se non c'è più permesso di usare l'ambiente naturale per sostenere le nostre vite? Viene minato il concetto di base del valore della vita umana. Che cos'è l'umanità e che cosa sono i diritti umani? Se ogni singola cosa al mondo viene elevata allo status di essere umano, se consideriamo un animale, una pianta, un'intelligenza artificiale e qualsiasi altra cosa di valore pari a una vita umana, non penso proprio che riconosceremo a queste cose il nostro stesso valore. Succederà che il valore della vita umana verrà abbassato al livello di quello delle piante, degli animali, di un albero o di un computer. Nel frattempo John Kerry, il paladino del clima, si è dimesso dicendo che i piani contro il riscaldamento globale sono legati agli affari, che girano un sacco di soldi e c'è chi si arricchisce. E dice che un presidente degli Stati Uniti non può farci niente perché ormai si è a uno stadio troppo avanzato. Ma non mi dire, Kerry ha scoperto l'acqua calda e dice che un presidente degli Stati Uniti, non dice chi, ma credo che possiamo immaginare che pensi a Donald Trump, non potrebbe interferire con questo piano. E dopo aver detto che questo è un modo per fare un sacco di soldi, invita la platea di Davos ad accelerare questo piano. It's absolutely critical that we accelerate. I am convinced, beyond any doubt, that because of the decisions being made in the marketplace now, because, I mean, you know as well as I do, even if, you know, I don't want this, obviously, but if you wound up with a different president who was opposed to climate crisis, I got news for you. No one politician anywhere in the world can undo what is happening now. The marketplace is doing this. And the only issue for all of us is not whether or not we can get or will get to a low carbon, no carbon economy globally, we will. The only question is will we get there in time to meet the challenge of the scientists in order to avoid the worst consequences of this crisis. That is what is at stake. So I really look forward to hearing from our folks today who are going to lay out the ways in which all can participate in this transformation. It was the biggest transformation in the economies of the world, in all of human history. It's also the greatest business set of opportunities that we've ever known in all of human history. of human history. It's also the biggest business set of opportunities that we've ever known in all of human history. cioè questo è il progetto più redditizio della storia dell'umanità si possono fare più soldi con questo che con il boom delle dot com o del petrolio più soldi che con la vendita di armi, della droga di qualsiasi cosa e parla di incentivi per convincere le persone a partecipare a questo grande incontro il World Economic Forum ad aiutarlo ad accelerare il piano contro il riscaldamento globale mettendo davanti a loro incentivi finanziari e lui dice che questo piano è inarrestabile ma io direi che è proprio il contrario almeno stando ai fatti Fox News non c'è da stupirsi che John Kerry si dimetta ad azzar del clima il piano green da 1000 miliardi di dollari di Joe Biden sta crollando e nessuno è più legato di John Kerry a questa pagliacciata proseguiamo la spinta per i veicoli elettrici è un disastro i progetti per le energie rinnovabili come i parchi eolici marini vengono cancellati uno dopo l'altro la gente è stanca di sentirsi dire che non può comprare quello che vuole come piani cottura a gas e lampadine incandescenza e guarda un po' le persone sane di mente nel nostro paese sono finalmente disposte ad ammettere che il mondo andrà avanti a combustibili fossili nel futuro insomma il piano è morto la gente non lo vuole ironia della sorte non è sostenibile la gente non è d'accordo sulle cose che ci vogliono imporre e su quelle che ci vogliono togliere e l'unico modo in cui va avanti sono i soldi pubblici Biden ci sta investendo mille miliardi di dollari e molti paesi del mondo ci stanno investendo un sacco di soldi Fox News osserva che anche le elite di Wall Street stanno gettando la spugna i fondi ESG scottati dalle loro alte aspettanze e dall'avere evitato i titoli del settore petrolifero e del gas si stanno esaurendo e proprio la settimana scorsa Cisa Peak Energy ha annunciato che spenderà 7 miliardi 400 milioni di dollari per acquistare Sound Western Energy creando quello che sarà il più grande produttore di gas naturale nel nostro paese le società insieme alimenteranno la domanda sempre crescente di esportazioni di gas statunitense essenziali per allentare il potere della Russia sull'energia europea e poi l'acquisizione è un segnale di fiducia nel fatto che la stretta di Biden sulla produzione di petrolio e gas naturale si è schiantata contro il muro della realtà la Casa Bianca vuole assecondare la lobby del clima ma noi abbiamo bisogno di combustibili fossili e non c'è modo di evitarlo naturalmente non tutti la pensano così dicevamo prima della questione dello status di essere umano ad alberi e corsi d'acqua se il piano sta davvero morendo se la gente non vuole queste follie come possono salvarlo? possono concedergli lo status di essere umano e renderlo intoccabile così non si può uccidere un albero non si può estrarre il petrolio non si possono costruire gasdotti per spostare il gas naturale non si può fare per via di tutti gli alberi che dovresti abbattere o la terra che dovresti scavare potresti mettere in pericolo un grillo o un bruco che hanno i nostri stessi diritti e anche gli agricoltori potrebbero essere colpevoli di ecocidio e per quanto possa sembrare pazzesco c'è chi vuole leggi del genere Bill Gates uno di cui parliamo spesso ha giocato un ruolo interessante in tutto questo con le aziende agricole ed è accusato di aver comprato terreni agricoli e di aver minacciato le piccole aziende agricole il New York Post ha scritto un nuovo libro che smaschera la classe dei miliardari afferma che gli investimenti del cofondatore di Microsoft Bill Gates in fertilizzanti carne finte, brevettate e terreni agricoli statunitensi non stanno salvando il pianeta ma piuttosto riempiono il suo conto in banca d'altronde anche John Kerry dice che ci si fanno un sacco di soldi il libro intitolato Controllingars è uscito da poco esamina come la ricchezza di miliardari come Bill Gates controlli le leve del potere che dominano la vita quotidiana dell'americano medio l'autore e giornalista investigativo Simus Brunner che ha guidato i team le cui scoperte hanno dato il via a molteplici indagini dell'FBI e del Parlamento sulle famiglie Clinton e Biden afferma che la sua ricerca ha scoperto che Bill Gates la sua strategia di acquisto di terreni agricoli molti si chiedono ma perché Bill Gates sta comprando terreni agricoli Simus Brunner dice che questo come i suoi investimenti in prodotti lattiero caseari sintetici e carni fatte in laboratorio in nome del cambiamento climatico fanno tutti parte di questo piano e Gates ci sta guadagnando Brunner afferma che Gates è più impegnato ad aumentare il suo patrimonio netto che ad eliminare le emissioni di anidride carbonica e poi prima hanno brevettato i semi e i fertilizzanti e ora stanno brevettando alternative alla carne vietare il bestiame significherebbe concedere monopoli effettivi alle aziende di proteine alternative e avvantaggiare investitori come Bill Gates Jeff Bezos Mark Zuckerberg e persino BlackRock le carni finte servono a controllare il mercato alimentare non a salvare il pianeta capito? questi individui hanno creato un ordine mondiale alternativo hanno creato prodotti sintetici finti per sostituire quelli organici e naturali se fanno in modo che non si possa battere una mucca o non si possa cacciare un cervo o non si possa pescare un pesce qual è l'alternativa se si vuole la carne? e loro hanno i brevetti il che significa che non è possibile imitarli se no vi portano in tribunale e questo dà loro il monopolio di fatto sull'intera filiera della carne se vietano i fertilizzanti come stanno facendo in alcune parti del mondo come l'Olanda cosa succede? beh loro hanno i brevetti dei fertilizzanti alternativi quindi se si vietano i fertilizzanti loro prendono il controllo dell'intero mercato mondiale hanno il brevetto hanno il monopolio e controllano l'intero settore se si vogliono vietare certi tipi di proteine loro hanno il monopolio anche su quelle alternative come gli insetti insomma questi lavorano a braccetto con chi cerca di far approvare queste politiche e forse questi che vogliono trasformare in leggi questi progetti hanno investito dei soldi in queste aziende insomma stanno lavorando su due livelli come in un attacco tenaglia ai nostri diritti fondamentali da una parte vietano una certa cosa e dall'altra hanno il monopolio dell'alternativa pronta a sostituirla e fanno soldi a palate lo dice John Kerry no? è la cosa più redditizia che si sia mai vista nella storia lo dicono loro Simus Brunner dice anche l'acquisizione del sistema alimentare come molti altri schemi controllati trattati in questo libro è iniziata con i Rockefeller ed è stata portata avanti da Bill Gates come la maggior parte dei loro monopoli dal petrolio al software e infine alla tecnologia l'acquisizione del cibo riguarda il controllo della proprietà intellettuale della produzione alimentare attraverso marchi copyright e brevetti quindi siccome non si può mettere il copyright e depositare il marchio di una cosa che esiste in natura se rendi illegale l'uso di quello che è già presente e controlli l'alternativa avendo creato un monopolio attraverso brevetti marchi eccetera praticamente controlli l'intero settore a livello mondiale insomma sei il padrone e tutti devono venire da te per averla ovviamente questo è il disegno del socialismo a livello mondiale ma sta anche verificandosi qualcosa di interessante per quanto pazzesca possa sembrare questa roba i problemi legali con tutte queste cose possono essere aggiustati se si riescono a manipolare i sistemi legali però la gente non vuole quello che questi hanno da offrire questa è la realtà i mercati stanno morendo l'industria petrolifera non è morta la gente non vuole mangiare carne finta io non ci penso nemmeno io non mangio insetti che sia chiaro per questo devono ricorrere alla legge e alla politica per cambiare le norme e mettere fuori legge i loro concorrenti e fare in modo di diventare loro l'unica possibilità rimasta alla gente ma il problema è che questo non sta accadendo ed è interessante notare che quest'ultima ondata di socialismo sta morendo in uno strano intreccio di quella che io definirei una giustizia poetica vecchio stile i socialisti democratici d'America una delle organizzazioni che sta facendo di tutto per fare la rivoluzione socialista in America sono in guai piuttosto seri sembra infatti che questa organizzazione socialista sia stata abbattuta dal suo vecchio nemico l'economia e quando finisci il denaro degli altri da spendere arrivano i guai leggiamo The National Pulse i leader socialisti democratici d'America DSA cioè a dire la Ocasio Cortez e Compagnia Bella ammettono che l'organizzazione politica di estrema sinistra è al verde e ha un notevole deficit tradotto hanno finito i soldi degli altri e questo mette a rischio il loro futuro il comitato politico nazionale del DSA ha riconosciuto in un annuncio al convegno Brad and Roses che l'organizzazione registra un calo delle entrate e dell'entusiasmo generale per risolvere la situazione fiscale sono stati ipotizzati i licenziamenti il bilancio prevede che il DSA debba sostenere 7 milioni di dollari di costi per il 2024 mentre sono previsti solo 5 milioni di dollari di entrate cioè hanno un buco di 2 milioni il tesoriere ritiene che l'organizzazione possa prendersi un altro anno per mettere in ordine i conti e ridurre il deficit del 2024 a una cifra compresa tra 821.000 e 921.000 ma resterebbe ancora un buco di circa 1.200.000 dollari insomma questo disegno politico sta morendo insieme all'infrastruttura che lo tiene in piedi la gente a quanto pare non crede più a queste cose come un tempo la mia opinione personale è che man mano che vengono a galla cose sempre più pazzesche le persone razionali iniziano a vederle per quello che sono iniziano a criticarle sempre di più e questo fa sì che anche le persone meno capaci di vedere come stanno le cose poi diventino più consapevoli io credo che vi sia in atto una trasformazione sociale perché a quanto pare questi sono proprio impazziti alcuni ci credono davvero sono proprio fuori di testa però c'è anche molta corruzione molte delle persone coinvolte in queste cose almeno secondo me sono false io non credo che la maggior parte di loro creda davvero che il riscaldamento globale sia una minaccia soprattutto se uno capisce cosa dice la vera scienza se guardano i dati reali molti di loro in cuor loro sanno di essere falsi ma ci guadagnano molti scienziati ad esempio ottengono finanziamenti per la ricerca e se all'improvviso smentiscono quello che hanno sempre sostenuto perdono tutti i soldi e anche la carriera questi affaristi che fanno soldi vendendo quote di anidride carbonica o chi sta cercando di creare un'alternativa alla carne non è certo favorevole a quei sistemi che lo fanno fallire perché la gente non vuole il suo prodotto in altre parole non si autodistruggeranno e ironia della sorte più fanno cose sempre più folli per cercare di distruggere i loro concorrenti l'ordine naturale della vita umana è quello più la gente diventa sempre più consapevole di cosa stia realmente accadendo per oggi è tutto gente grazie e come sempre state bene rimanete informati e rimanete liberi grazie a tutti grazie a tutti